Ciao a tutti ragazzi sono Eugenio e io sono Emanuele e oggi come potete vedere ci troviamo su FIFA 21 e doveva uscire un video diverso FIFA 21 perché FIFA 21 è uscito la scorsa volta però sarebbe potuto uscire un video di Fortnite ma momentaneamente dobbiamo aggiornarlo e quindi uscirà di nuovo di FIFA 21 e comunque non ci troviamo nel torneo insieme in cui ha fatto gli ultimi 4 episodi di FIFA ma come detto Emanuele facciamo una sfida, faremo una sfida uno contro uno, io contro Emanuele ma in una modalità un po' diversa che abbiamo fatto anche se non sbaglio nel primo FIFA nel primo video di FIFA che è uscito c'è quello di FIFA 20 che è palla matta, è la prima volta che lo facciamo su FIFA e direi di andare a cominciare la partita vi ricordo un po' come sono le regole di palla matta e ci sono delle, come potete vedere, ci sono delle palla avrete colori diversi in alto a destra che vorrebbe appare potenzia passaggio a ogni azione che finisce cambia, cambia il potenziamento esiste potenzia passaggio, potenzia velocità, potenzia tiro e potenzia tutto ora è potenzia passaggio? si capisce potenzia tutto, è migliore perché potenzia tutto quanto comunque stiamo agendo a Mila Juve e la Juve per chi non sapesse è strana perché non è dato il giovane credenziale a FIFA per poter mettere la strana maia e comunque vi ricordo già da ora di dire ciao oh no ha fatto una cavolata vabbè vi ricordo, ah giusto, triangolino rosso se il giovane reccomando io, triangolino blu è quello che comanda è normale e vi ricordo comunque già da ora di lasciare like e iscriverti al canale in modo da supportarci e che noi, perché noi possiamo ogni giorno il video e quindi iscrivetevi al canale, non ci vuole assolutamente niente basta prendere, iscriviti ed è fatto, lasciare like ancora più stagione aiuto aiuto ok ok attento calabria mangia idra vedi ho con il cellulare del visore si però caldo bonifico eh vabbè non usa rabbia, sa rabbia eh sei un grande no dovevo fare il passaggio tu mi hai marcato eh guarda devi lasciare un passaggio ma sono fortissimo nooo ok vai 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 guarda che dribbling uuuu pesante oh dai c'era libero nooo c'era nooo nooo devo dire che c'è una difesa veramente spaziale c'è scusa difendere in modo spaziale io ho oh facci quella bocca del mio pochino di valanzabile questo pallone apprezzabile questo pallone chiiiiiii C'è raga, ma quando mai? Dodo! Ma che gol ha fatto? Dodo! Ma quando? Ma quando? Ma... No, raga... Ma che gol, eh? Ma non hai premix? Ma non hai premix? Ma non hai premix? Ma hai fatto un gol pazzesco? Yes! Ammazza, ma non è assolutamente... Non sai che fa male cose... Niente, ma no... Ah, sta a far rai l'ascosto stagione, bravo! Oh cavolo, oh cavolo! Eh, attenzione la potenza di healing... E' vaiii!! Buono! Buono buono buono! Polerenzi amounts! Polerenzi muito... Colerenzi... Interrompe bene l'azione! Intercettarvi il lancio... Vai, dai probable carbohydrates! cavolo! Vabbè... C'è l'errore, palla recuperata Ma cosa faccio? Ah giusto, un'altra cosa che volevo dire Iscriversi al canale Iscriversi al canale non costa assolutamente niente Mi scrivo No, assolutamente no Cliccate su iscriviti E si è descritto Dai no, però non va bene Oh c'è potenzio di tiro Raga qui i tiri sono Ti distruggono, sono dei meteoriti Ok C'è anche il Che cosa è successo? Non l'ho fatto io Ma no, allora se segna come prima Volevi segnare come prima Volevi Ma va, ma va Ma va 3, 2, 1 Psss Ma perché non ti dai Ho fatto una cavolata Ok, ok Ho fatto una cavolata Perché? Me lo fai il figo con Castiglieco No, vabbè No, vabbè però mi sto a mangiare certe cose sta partita Boom Ma io no Non so scarso Io Io Sante il difensore No, 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 no Oh, pesante 2 a 1 Perché questo valeva 2 Vai che la rimontiamo con Teo Vabbè non è possibile che Quanto che stai qui Oh Fin ad ora non si è vista ancora potenza e velocità Fumo Hai venuto di recupero? No, le ho mai chiesto Assolutamente no Non ci voglio Secondo tempo Non ci passa un giugno Dici, sì Sì Io voglio vedere potenza e velocità Ah Che si è accaduto Oh Si va tutto da solo Kier Ma hanno già Kier Eh vabbè Kier Kier Bellissima Tio Troppo bella Non mi fredhi 4 a 3 Anche questo valeva 2 Vado a dire Sono leggermente fortunato Ma il tecco di migra Ma non che li faccio di fortuna Che tutti valgono 2 E stiamo 4 a 3 Raga facciamo così Allora Vado a già dirlo Mettete adesso Vado a già dirlo Mettete ora in pausa il video E provate a vedere Provate Ve lo dico In quasi tutti i video Di fisa Provate a vedere Se succede il mio risultato Una cosa Allora Sti risultati molto probabilmente Uscirà un risultato tipo 10 a 10 Cioè Arriveremo a una doppia cifra Perché A un certo punto Ci stanno Ma non in profondità Boom Stiamo 5 a 4 Quando mai Perché Come avete visto Com'è successo A me Valgo Non è già Sempre più di più A un certo punto Della partita Quindi sperate Risultati Anche più alti Vediamo Vediamo Chi non Oh per la prima volta Vabbè ma Hernandez con la velocità E che Forse Forse Aiuto Oh Oh E che mi li fa il portiere No Boom Sempre lì All'angolino 6 a 4 Aia Aia Beh vabbè Se è 4 Ma non significa Che è il vingo Già più forte Lì Non significa che se è il vingo Già più forte Non lo sbaglia 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 Cosa Oh Vabbè Non lo sbaglia Però adesso veramente Cioè dai Scusi Che sto fa Sto fa Ma non è presente Mi sa Beh C'è da lì Però quella La rosa della Juve La rosa della Juve Su FIFA È molto meglio Di quello È molto meglio Di quella È molto meglio Di quella Del Milan Però quello C'è da Fai Questi cavolati Cerca Di bucare Avere il compagno E' efficace Qui al portiere Che può fare Qualcosa Anche ai fotografi Non te faccio Ed è io Occhio Potenza Occhio Potenza Tutto Guarda Tutto No No Va be Cioè Sì Sì ma ti avrai tirato una cannonata che guai.. no vabbè e no quando ricapita e no quando ricapita no già a te calabria può cercare il cross ma cavolo ricapita vabbè però c'è sicuramente continuano a far girare il pallone oh cavolo sentici proprio prossima volta però facciamo 5 stelle contro 5 stelle vabbè 4 stelle e mezzo quattro stelle l'ha passato il Milan non so perchè stupido vabbè però e di ancora che la difesa è male si raga 11 a 4 4 4 4 mi sta distingendo può darci tiro mi sta distingendo mi sta distingendo mi sta distingendo ma non è non è che facciamo un 15 a 4 regalo regalo quel pallone che veramente ah chi è di cacca 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 cavolo oh quanto vale allora se faccio il miracolo da recupero ma ci serve un miracolo piracolo di dios ancora 600 secondi a rapine eh vabbè è fantastico mi capita per non sopravvivere un altro gol tuo no eh cioè un altro gol di quadrato ok ok grande quando si parla di fortuna quando si parla di fortuna raga ok ok è uscito facile ci metò ahhh ah no no ma che cavolo qua sei che il morto ma cosa la recuperate subito Non ha avuto l'istinto del killer Questa era un'ottima occasione per segnare Ma l'asciupata Che cavolo Ma t'hai messo i superpoteri 13 a 6 Raga quelli sui c'hanno i superpoteri No vabbè Vabbè Ma hai distrutto sta partita Un gol Fatemelo fare un gol Ovviamente non lo devi Oh cavolo Ma perché non me l'hai fatto finì Vabbè Raga Emanuele mi ha distrutto A quanto pare Bisogna di che La Juve è più forte e molto più forte Però ha giocato bene E Direi che Eugenio E' tutto Mi iscrivetevi al canale Vi ricordo sempre di lasciare la questione al canale Da un giudato Da un giudato Da un giudato Da un prossimo video Ciao 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 Ciao